Devo dare un'altra notizia, che è la notizia di questa mattina, perché è stata arrestata l'ex eurodeputata Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, stata posta ai domiciliari questa mattina per un'inchiesta di tangenti e corruzione che riguarda la mensa dei poveri, così denominata, e stanno uscendo adesso le notizie dell'ordinanza e nell'ordinanza del GIP si dice che Lara Comi ha mostrato una non comune esperienza nel far ricorso a collaudati schemi criminosi. Lo scrive il GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare, appunto a carico dell'ex eurodeputata di Forza Italia, che si trova ai domiciliari nell'ambito di questa inchiesta, dove tra l'altro sono coinvolte anche altre persone.